Ascolti. Grazie. Quanto si dice che uno conosce il suo mestiere dottor? Si sa scegliere l'Igieneone. Grazie. Grazie. Così tu? No, vai là. Vabbè pomodoro, formaggio. Certo. No, non è neanche lui. È un po' più difficile. E' un po' più difficile. Ecco. Abba. come with the gamine? carmelo blondino